Due denunce a piede libere, una segnalazione in prefettura e il bilancio di una serie di controlli effettuati dai carabinieri tra Canicatti e Campobello di Licata. La prima denuncia è scattata nei confronti di una giovane disoccupata canicattinese di 27 anni, accusata di avere violato la sorveglianza speciale che prevede l'obbligo di soggiorno e il divieto di uscire da casa propria dalle 20.30 alle 7.00. In quella fascia oraria, nel corso dei controlli dei militari dell'arma, la donna non era stata trovata in casa e quindi gli investigatori non hanno potuto fare altro che denunciare l'accaduto alla procura grigentina. Denunciato invece per guida sotto l'effetto di alcol un artigiano di 55 anni di Campobello di Licata, che è stato trovato alla guida del rasù a Renault Megane con un tasso alcolemico di 0.99 nel sangue, quindi superiore allo 0.5 previsto dalla legge. Un canicattinese di 22 anni è stato segnalato come assuntore in prefettura dopo essere stato trovato in possesso di 15 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato naturalmente sequestrato. Nel corso dell'attività dell'arma sono state controllate circa un centinaio di persone e altrettante autovetture. Sei invece alle perquisizioni domiciliari e veicolari eseguite. Inoltre in prefettura da Grigento è stato anche convocato un tavolo permanente dopo che era stato siglato il patto per la sicurezza fra il sindaco di Canicattia e il prefetto Maria Rita Cocciufa.